E siamo di nuovo in diretta qui a Padre Pio TV dagli studi di Padre Marciano Morra con i rappresentanti della Sardegna, la mia amata Sardegna, i gruppi di preghiera della Sardegna. Abbiamo con noi padre Enrico Magia, coordinatore assistente regionale dei gruppi di preghiera Sardegna, lui è anche cappellano dell'ospedale San Martino di Oristano e la signora Natalia Casula che è la responsabile segretaria dei gruppi per il Sud Sardegna. Benvenuti, iniziate la novena con noi insomma, bene bene sono contenta la Sardegna, viva la Sardegna. Allora padre Enrico è in corso di svolgimento il 35esimo convegno nazionale dei gruppi di preghiera dal tema Gesù ecco la mia speranza ecco la viva sorgente della mia felicità. Ogni anno i gruppi di preghiera si riuniscono per verificare il cammino svolto e progettare il futuro. Puoi spiegarci l'impegno dei gruppi di preghiera Sardegna? Sì, i gruppi di preghiera si impegnano soprattutto nella preghiera come il carisma dei gruppi di preghiera. Padre Pio che ha aderito al richiamo del Papa Pio XII di pregare per la pace. E quindi noi ci incontriamo cercando appunto di sviluppare sempre di più il senso della preghiera, della preghiera comunitaria, della preghiera individuale. Seguiamo i percorsi di formazione proposti da padre Luciano Lotti. L'anno scorso era sempre su temi fondamentali per la vita cristiana. L'anno scorso sulla parola di Dio, quest'anno sulla speranza. Ecco la ragione della speranza, della gioia che sta appunto nel crocifisso. Molto importante questo aspetto sia di preghiera comunitaria che formativo per poter comprendere qual è il carisma di padre Pio. Noi puntiamo molto su questo perché in alcuni luoghi viene scambiato come il gruppo del rosario, quindi anche alcuni parroci. Non ha un proprio per alcuni, invece stiamo puntando proprio nel comprendere la spiritualità che è appartenere a questa grande famiglia di padre Pio, dell'opera di padre Pio. L'identità propria della preghiera di offerta e della preghiera appunto secondo tutta la spiritualità e la bellezza che apparteneva a padre Pio e la pluriformità di carità che nasce proprio dai gruppi dal cuore di padre Pio. Ebbè la Sardegna, io sono stata in Sardegna per diversi anni, ricordo appena sono arrivata in Sardegna, ero un po' spaisata perché ho detto chissà, sono scesa dall'aereo, la prima cosa che ho incontrato padre Pio ovunque. L'amore della Sardegna per padre Pio è qualcosa di straordinario e infatti ogni anno ai convegni siete tantissimi, è bellissima questa testimonianza che date. E andiamo da Natalia perché io vorrei andare un po' più sul concreto degli impegni che voi di anno in anno ma quotidianamente in qualche maniera svolgete come gruppi di preghiera. Chiedendovi, visto che siamo al 14 settembre, dunque la data di inizio di preparazione appunto alla festa liturgica di padre Pio, come vi state preparando a celebrarla, quali appuntamenti vi vedranno protagonisti? Allora noi come gruppo di preghiera di Pula, non parlo come segretaria diocesana, ma come gruppo di preghiera di Pula abbiamo iniziato, cominciamo oggi, io non ci sarò ovviamente perché sono qua, molto volentieri, con la novena, con la novena padre Pio e poi faremo il triduo. Il triduo è l'ultimo giorno, il giorno proprio della festa, ci sarà una bella celebrazione tenuta dal nostro rettore padre Stefano Casula e poi... Cognome familiare da quello che è sempre. Sì, effettivamente, non siamo parenti, una bella processione, come facciamo sempre. Dove la tenetela? La processione nel santuario, noi non siamo un gruppo parrocchiale, non ci riuniamo in parrocchia, ci riuniamo nella chiesa di Franazzareno. Che sarebbe il santuario della consolazione, giusto? Il santuario della Madonna della consolazione, la chiesa di Franazzareno. Franazzareno costruita. Ecco, però spieghiamo chi è Franazzareno perché, insomma, è una figura importante per la terra di Sardegna. E' quello che ci lega a padre Pio, è il nostro, diciamo, punto d'unione, il tradunione con padre Pio. Servo di Dio, giusto? Servo di Dio, sì. Sì, è una figura molto carismatica. È una figura molto carismatica, ma è lui che effettivamente ha introdotto la figura di padre Pio in Sardegna. È una devozione fortissima, come diceva Giulia, perché c'è una storia dietro. Franazzareno è arrivato qui a San Giovanni Rotondo chiedendo a padre Pio di poter restare qua. Non era ancora un fratte. Chiedendo a padre Pio di poter restare qua. E invece padre Pio l'ha rimandato in Sardegna, dicendo che c'era bisogno di lui in Sardegna, non qua. Padre Pio, Franazzareno è tornato in Sardegna e lì è nato tutto. Ha cominciato la sua, diciamo, la sua missione. Effettivamente è una missione. Una missione che ha fatto conoscere padre Pio praticamente ovunque, in ogni parte della Sardegna. E noi a Pula, tra l'altro, abbiamo avuto poi, oltre che Franazzareno, abbiamo avuto padre Roberto. Che vogliamo salutare proprio oggi. Che vogliamo salutare, sicuramente. E che oggi grande assente padre Roberto, però è sempre con noi perché gli vogliamo bene. Lui lo sa e quindi veramente, padre Roberto, ti aspettiamo. Se tu ci fai una sorpresa, quando vuoi, qui sei di casa. Padre Roberto ci ha dato tanto. Padre Roberto continua a darci tanto perché comunque... Ebbè, per quel santuario ha fatto anche tanto. Per quel santuario ha fatto tanto. L'ha trasformato. Effettivamente, quando è arrivato lui, dieci anni fa, era una chiesetta bella, sicuramente molto frequentata. Ma adesso è un santuario con i fiocchi che cresce sempre di più come struttura e come presenze. Io direi che cresce anche di più, sempre di più, anche la spiritualità di Franazzareno. La spiritualità di Franazzareno è una figura straordinaria. Io ricordo, perché ne abbiamo trattato in questo programma, dei funerali decine di migliaia di persone. Forse anche migliaia a migliaia di persone. Beh, insomma, la terra sarda è terra di santi francescani, perché ce ne sono tanti. Santi Ignazio, San Nicola, Gesturi. Altri servi di Dio. Eh, voglio dire, quindi, padre Enrico, mettiti in lizza, perché... Ma basta ricordare l'anno scorso, quando c'è stata la reliquia di padre Pio. Esatto, sì, la festa straordinaria che c'è ogni anno. Abbiamo avuto quasi 50.000 persone, insomma, nel giro di pochissimo. Insomma, sono i frutti anche di Franazzareno, dell'obbedienza filiale di Franazzareno a padre Pio. Allora, andiamo in pubblicità, ci fermiamo qualche istante e poi continuiamo questa bella chiacchierata con i nostri amici sardi, qui a San Giovanni Rotondo, per il convegno nazionale dei gruppi di preghiera di padre Pio. Restate con noi. E continuiamo questa piacevole chiacchierata con i nostri amici della Sardegna. Padre Enrico, nel corso del convegno è stato offerto un importante focus sul tema dei giovani, della fede e della spiritualità. Quale testimonianza puoi offrirci riguardo al rapporto dei giovani con il mondo del sacro, con la figura di padre Pio in questo caso particolare? E cosa possono offrire i gruppi di preghiera ai giovani in cerca di senso? Sì, i giovani hanno bisogno appunto di significato. Che cosa significa la fede o qualsiasi cosa per la mia vita? Sì. Hanno sete di verità e quindi subito fiuttano dove c'è un'autenticità. E hanno questo... ci diceva di ieri la relatrice che appunto molti giovani da un questionario che hanno fatto una ricerca scientifica su 100 giovani, molti non intravedevano l'attinenza con la vita. Qualcosa di noioso, qualcosa di staccato. Quindi far testimoniare questo, che Gesù rende più bella la vita, la rende più vitale. Questo senso di gioia che è collegato anche al senso del vuoto, del bisogno, esplode. Esplode con Gesù Cristo. Padre Pio che cosa può offrire? Che cosa possiamo offrire noi ai giovani? Una figura autentica. Uno che parla al cuore. Uno che non ha rinunciato a essere se stesso, avendo tante esperienze mistiche, ma era scherzoso, spontaneo. Aveva proprio il carattere degli abitanti del Sagno, di Pietro del Cina. Parlava in dialetto. Io penso che questa sia una testimonianza molto bella, di un uomo che non ha rinunciato alla sua umanità, ma la sua umanità con Cristo e con tutti i fenomeni mistici era più bella e più vera. Ma infatti tu dicevi Gesù rende belli, avvicinarsi a Gesù rende belli. E proprio questa è la testimonianza di Padre Pio, che nella sua veracità, ecco, nel suo essere così vero, insomma può dare esempio anche in questo. Certo, che non ti toglie la vita, anzi ti fa vivere ancora di più. Del resto anche Papa Francesco lo esorta a pregare in dialetto, lo ha detto in diversi suoi interventi, dicendo che... Si, quel napoletano. Sì, insomma, attraverso la testimonianza anche dei nonni, che in qualche maniera si impara a pregare. Padre Pio da questo punto di vista è stato precursore, se vogliamo, un po' di tutta questa bellezza che è fiorita poi anche nei gruppi di preghiera. Gruppi di preghiera che si stanno anche preparando, Padre Enrico, al giubileo, perché la tematica Gesù, ecco la mia speranza, ecco la viva sorgente della mia felicità, che è anche un po' il badge che tu hai al collo, un tema, quello del convegno, che ricalca appunto quello del giubileo della speranza. Allora, i gruppi di preghiera, a quale impegno sono chiamati quelli sardi, ma più in generale anche rispetto alla riflessione che avete fatto in questi giorni nel convegno, a quale impegno i gruppi di preghiera sono chiamati in questo anno santo prossimo venturo? Sì, l'impegno è quello cristiano, di intravedere Cristo come il riscatto di tutta la vita. Cristo come colui che, in una situazione che può apparire, a volte brutta, difficile, contraddittoria, è intravedere Gesù che la riempie di luce. Perché le situazioni a volte sono difficili, sono dure, ma con Gesù Cristo, trovando Lui, tutto viene riscattato. Il cristiano è colui che, una parola, nell'Antico Testamento viene vista la sentinella che intravede il mattino. E questa parola sentinella deriva da una parola ebraica che significa fare il mandorlo. Ora non ricordo la parola ebraica. Cosa significa fare il mandorlo? Il mandorlo fiorisce in inverno, fiorisce quando c'è l'inverno. Già avverte la primavera. Quindi il cristiano avverte la presenza di Cristo. E già la presenza di Cristo è vita, è riscatto. E in questo io voglio chiederti, ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Monsignor Sorrentino poco fa. Il Giubileo della Speranza, che cos'è la speranza per il cristiano? La speranza per il cristiano è sapere che la nostra vita va incontro a Cristo. Non c'è più, speranza migliore di quella. Certo. Grazie, pare Enrico. Natalia, per chiudere, ora cosa vi riportate, cosa portate in Sardegna da questi giorni qui a San Giovanni Rotondo dopo questo convegno così bello, così partecipato? Abbiamo anche visto delle immagini relative alla mattinata di ieri. Qual è la consegna, potremmo dire così? Ma sicuramente tanta emozione, perché stare qua è sempre un'emozione. Ebbè, avete cominciato bene, eh? Sì, sì, sì. Noi arriviamo qua e cominciamo con una grande commozione. Incontrare Padre Pio è sempre una grande emozione. Quindi ci portiamo questo e ci portiamo tutte le parole che sono state dette e che sicuramente noi come gruppi di preghiera dobbiamo trasmettere. In più, questa cosa del rosario, che deve diventare una liturgia per noi, che recitiamo il rosario tutti i giorni, è stata una cosa bellissima, effettivamente una cosa... Ebbè, sono le parole di Padre Pio. Amate la Madonna e fatela amare. Quindi com'è meglio farlo se non con il rosario. Esatto. Recitate tanti rosari. E recitate tanti rosari. Per noi è importantissimo perché è la nostra missione e quindi se diventasse liturgia per noi sarebbe veramente bellissimo. Beh, è una consegna importante. Del resto ai gruppi di preghiera non si poteva che consegnare la preghiera. Esatto. Se vogliamo essere ancora più semplici. Allora, vi invito a rimanere con noi perché adesso vediamo insieme, regia, l'intervista che il nostro collega Tony Augiello ha svolto ieri, ha fatto ieri al presidente dei gruppi di preghiera, al direttore dei gruppi di preghiera di tutto il mondo, Padre Franco Moscone, arcivescovo appunto di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo, su quelle che sono le tematiche di questo convegno così interessante. Vediamo insieme le parole di Padre Franco, intervistato da Tony Augiello. Che cosa ci dobbiamo aspettare da questa 35esima vizionata? Credo l'inserimento a pieno titolo e con grande entusiasmo nel giubileo che sta per iniziare. Siamo nell'anno preparatorio, gli ultimi mesi hanno dedicato alla preghiera e quindi un anno particolare per i gruppi di preghiera di Padre Pio. Abbiamo scelto ovviamente il tema della speranza da un testo del nostro fondatore del 1917, un testo molto bello che vede Gesù come speranza dell'umanità e di ogni persona. Credo che il 35esimo convegno dei gruppi di preghiera di Padre Pio debba dare forza alla loro identità di gruppi che si ritrovano per pregare insieme e dare speranza alla Chiesa, alla società e al mondo. E così siamo autentici, se ci rinnoviamo ogni giorno, se ricordiamo le nostre origini, manterremo questa vocazione che continua ad essere fondamentale, buona e nuova sempre e missionaria per tutti. Quindi che Padre Pio ci accompagni veramente a mantenere fedeltà alle nostre origini, al dono che lui ci ha dato, al carisma che ci ha consegnato da diffondere. Ci hanno sempre insegnato che la speranza deve essere operosa. In questi tempi così difficili che stiamo vivendo, come i gruppi di preghiera possono concretamente trasformare questa speranza in carità? Intanto la speranza cura i cuori, è dal cuore dice Gesù che nascono tutte le intenzioni umane, quelle negative ma anche quelle positive. Quindi dare speranza significa curare i nostri cuori, è la vera terapia. Padre Pio era particolarmente attento alla medicina e credo che iniziasse dalla medicina del cuore. Quindi dare speranza significa curare la nostra interiorità, curare il nostro cuore, curare le nostre relazioni e renderle ad alto livello e possibili per il bene di tutti. Ovviamente incominciando da chi ne ha più bisogno. E solo così la speranza aiuta veramente la carità e la fa correre, come diceva Pegui. La fa correre e la fa diventare veramente attiva. E qui a San Giovanni Rotondo abbiamo l'esempio fisico della speranza che si fa a carità, che si fa a azione. La basilica e la preghiera diventa casa, il sollievo della sofferenza diventa attenzione al malato e ai bisognosi. Questa è una vocazione, la vocazione di Padre Pio che i nostri gruppi e le nostre opere cercano di continuare e di diffondere nel mondo. Perfetto padre, c'è un messaggio di impegno, benvenuto a tutti i pellevoli. Chiaro, stanno arrivando e sono quest'anno veramente molti rispetto agli altri anni gli iscritti a questo convegno, ma insieme ai devoti dei gruppi di preghiera ci sono tantissimi altri devoti di Padre Pio che sempre si aggiungono e che vanno a fare gruppo. Gruppo è una massa critica positiva di cui il mondo di oggi ha bisogno. Benvenuti a tutti e che San Giovanni Rotondo sia veramente città dell'accoglienza e della pace come Padre Pio se l'aspettava. Eccoci qui, abbiamo ascoltato le parole di Padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia Veste San Giovanni Rotondo. Non so Padre Enrico se vuoi commentare ciò che ha detto Padre Franco, che è sempre molto accogliente del resto, San Giovanni Rotondo è città dell'accoglienza, con tutti i gruppi di preghiera non solo in Italia ma sparsi in tutto il mondo. Certo, è sempre una bellezza vedere tutti questi gruppi che vivono della spiritualità di Padre Pio e che sono gratti al Signore per aver donato Padre Pio e sperimentano la sua protezione e il suo accompagnamento. Ecco, penso che soprattutto appartenere al gruppo di Padre Pio sia essere i suoi figli e quindi condotti da lui. e voglio ricordare questo che sempre commuove, commuoveva i figli spirituali di allora e commuove anche noi. Io rimarrò con un piede fuori dal paradiso sinché non vedrò l'ultimo dei figli entrare. E quindi Padre Pio che ci accompagna, Santo del Cielo, Padre che appunto ci accompagna verso questa... E ci aspetta lì. ...questa salvezza e conoscenza di Cristo. Assolutamente. Parerico, noi vogliamo ringraziarvi infinitamente per la vostra testimonianza, per la vostra presenza qui e anche per quel po' d'aria di Sardegna che ci avete portato. Vi lascio un pezzo di cuore e ve lo portate con voi in Sardegna. Grazie, grazie di cuore. Noi andiamo in pubblicità qualche secondo e ritorniamo subito dopo. Subito dopo. Grazie.